Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi. Io sono Marco Matarazzi. Benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di pricing statico, automatico o dinamico. Puntata del podcast Ospitalità 4.0 dedicata all'evoluzione del pricing, quindi il titolo ha pricing statico, automatico, dinamico e cercheremo di capire come si è evoluto questo concetto. Inizio io Marco, quindi mi prendo subito la scena e parlo del pricing statico. Che cos'è il pricing statico? È il modo con cui le strutture alberghiera hanno lavorato per tanti anni. Era una tipologia di pricing in cui veniva scelto il prezzo con cui venivano vendute le camere per tutta la stagione, quindi un pricing statico che non subiva particolari variazioni e ovviamente questo è un approccio abbastanza obsoleto. È obsoleto anche come venivano mandate queste tipologie di prezzi, venivano mandate tramite fax ai rivenditori, alle agenzie, ai tour operator. Quindi ci siamo resi conto poi che con l'avvento di internet e dei primi canali di vendita online non si potesse andare verso una tipologia di pricing statico, non si poteva mantenere quel prezzo per tutta la stagione, anche in base a dei fattori che potevano portare ad aumentare quella che era la richiesta da parte del mercato. Sì, io ho ricevuto tra l'altro piccolo inciso, non si può, non si può, ma qualche settimana fa un'email con il listino della stagione da parte di una struttura. Mi è arrivato per posta. Ne abbiamo parlato in una puntata perché appena l'ho scoperto ero completamente distrutto, ero devastato da questa cosa. E quindi sì, sono d'accordo con te che ormai è anacronistico. È anacronistico però te l'hai ricevuto tramite posta, quindi è un qualcosa di estremamente... Posta elettronica, non per lettera, sarebbe stato molto meglio per caso. Bene, però comunque all'interno dei siti web di alcune strutture ricettive c'è una sezione dedicata a prezzi e tariffe in cui c'è la bella tabellina in cui ti dicono guarda questa settimana costa così, eccetera eccetera. Esatto, e poi magari ci vuole anche una laurea per capire le combinazioni la seconda settimana di luglio, se hai tre bambini ma il secondo è più piccolo dell'altezza della gamba del tavolino, allora paghi la metà e qui e così via. Quindi diventa ancora più complicato. Beh lì ci vuole la laurea in matematica. Esattamente, qualcosa del genere. Quindi questo pricing statico è sicuramente un approccio, come dici giustamente tu Edoardo, che fa parte del passato. Tuttavia ancora viene applicato da alcune strutture ricettive, probabilmente quelle che non ascoltano il podcast. Immagino, o se c'è qualcuno che ascolta il podcast e segue questa strategia, magari c'è le sue buone motivazioni, ci faccia sapere perché siamo sempre curiosi di capire che cosa funziona per chi, insomma, siamo a disposizione. Pricing automatico invece. Pricing automatico invece iniziamo a affidarci alla tecnologia. In questo caso specifico ci affidiamo completamente alla tecnologia. Significa che noi deleghiamo a un'applicazione, a un software, a un algoritmo, questo termine algoritmo piace molto, l'intera gestione del mio prezzo. Quindi in maniera automatica vado ad impostare delle regole che mi permettono di variare il prezzo della vendita dei miei alloggi, dei miei pianitari affari, sui vari canali di vendita, di distribuzione che ho. Ok, messa così fa pensare che non c'è bisogno di un intervento manuale con il pricing automatico, è corretto? Corretto. Essenzialmente le strutture che si affidano a una strategia di pricing automatico, quello che fanno è definiscono delle regole e poi adottano un software che fa le magie per loro. È un po' come la ricetta della Coca-Cola, ci sono degli aspetti più segreti, altri meno, e che vanno ad impattare sul nostro prezzo. E quindi da lì la nostra strategia di pricing la possiamo delegare completamente alla macchina. E questa è la seconda modalità. Sempre facile, un po' come la prima, perché rimane comunque delegata. Sicuramente migliore, di gran lunga migliore. Ok, e poi c'è il terzo polo che abbiamo nominato anche nel titolo, quindi il pricing dinamico. Esatto, ed è qui oggi che secondo me ha senso andare a discutere. Non dico che il pricing dinamico sia migliore di quello automatico, è semplicemente cerchiamo di capire quali sono le meccaniche che stanno dietro alla gestione del prezzo, così da poter poi scegliere qual è il modo migliore per noi per operare come struttura. Un pricing dinamico è un pricing semiautomatico in qualche modo. È un pricing che si divide essenzialmente con una strategia di applicazione del prezzo e si divide in due fasi. Prima analizzo, dopodiché applico le mie regole. Però c'è sempre una fase di studio, di analisi e una seconda fase di applicazione. Quindi cerco di capire dei dati, adesso vedremo quali, non vi terremo così campati in aria, e dopodiché vado ad applicare le mie regole di vendita. Questa iterazione di aggiornamento del prezzo deve essere fatta anche più volte al giorno. Quindi una, due, tre, quattro volte al giorno, dipende dal periodo dell'anno in cui ci troviamo e dalle caratteristiche della nostra struttura. Pertanto potete immaginare come, affinché questo tipo di approccio sia sostenibile, dobbiamo avere i giusti strumenti sia di analisi per leggere come stanno andando le prenotazioni nel nostro hotel, ma anche poi di attuazione, quindi di applicazione di questi nuovi prezzi che noi andiamo a definire. Ok. Perché se non ce li abbiamo diventerebbe un lavoro mastodontico. Esattamente, perché comunque questo qui richiede un grande lavoro di analisi, richiede conoscenza ovviamente del mercato, ma abbiamo bisogno degli strumenti giusti per andare a prendere queste decisioni e soprattutto abbiamo bisogno dei dati. Quando io parlo di dati mi riferisco a prenotazioni, cancellazioni, è giusto? È corretto, dobbiamo sapere come sta andando la nostra, la nostra diciamo, prenotabilità, come stanno entrando le vendite delle room night o eventuali cancellazioni. Quindi cosa sta succedendo per quanto riguarda il nostro hotel e la nostra destinazione? Quindi uno strumento che ci viene in aiuto per iniziare subito ad andare nel concreto è quello del report, del report che si chiama Pickup. Ok. Il Pickup è uno strumento di analisi, è una reportistica, dove noi andiamo ad identificare un range temporale di analisi e un range temporale di Pickup. Ok. Quindi noi vogliamo vedere come stanno entrando, come sono entrate negli ultimi n giorni, quindi magari facciamo finta dall'altro ieri, quindi oggi è venerdì, ieri era giovedì, l'altro ieri era mercoledì. Voglio sapere mercoledì, giovedì, fino a questa mattina, quindi comprensivo di una parte di venerdì, quali prenotazioni, quali room night ho venduto per i prossimi 365 giorni. Solamente isolando quei due giorni e mezzo di analisi, di Pickup perdonatemi, rispetto all'analisi e tutto quanto l'altro range temporale. Questo perché è importante? Perché noi vediamo come si stanno muovendo le prenotazioni sul nostro libro delle prenotazioni per le varie date. Ok. Ci accorgiamo per esempio che ieri sono entrate cinque prenotazioni per il prossimo fine settimana che ha aumentato il nostro tasso d'occupazione dal 60% al 68%. A quel punto possiamo decidere di andare ad intervenire sul prezzo per quella data. Quindi la prima informazione che otteniamo da questo strumento Pickup è la variazione, perché se non l'alternativa qual è? L'alternativa è segnarsi su un fogliettino tutte le prenotazioni che otteniamo e capire per quali date le stiamo ottenendo. Vabbè, però con le follie neanche lo valutiamo. È impensabile, certo. E quindi questo strumento di analisi Pickup ci dà una visibilità veloce del che cosa mi sono perso dall'ultima volta che l'ho aperto. Essenzialmente è questo. Ok. Ma guarda, da ieri hai tre prenotazioni in più qui, due cancellazioni qua e altre sette su quest'altra data ancora. E ti dà visibilità. Ok. A me quello che piace di questo report è che ci aiuta a prendere consapevolezza delle scelte che dobbiamo fare in materia di pricing, Marco. Quindi non ci fa prendere delle scelte di pancia che poi è un po' il leitmotiv di questo podcast. È corretto, sì. Tenete conto che questo strumento fa parte della dotazione di ogni software RMS. Ed è quando voi acquistate un RMS lo trovate dentro come strumento perché lì è questo la base anche di un pricing automatico, quello che dicevamo prima. L'algoritmo si basa su queste informazioni. Va a creare una serie di scaglioni. Per esempio, quando ho un'occupazione allo 0%, metti un prezzo che è il più basso. Dopodiché all'aumentare dell'occupazione aumenta il prezzo. E poi ci sono altri fattori che vanno a influenzare in più o in meno la variazione del prezzo. Però di massima quello che comanda è il nostro tasso d'occupazione in relazione ovviamente alla prossimità della data. Quindi se sto analizzando una settimana da oggi è diverso rispetto a se sto analizzando sei mesi da oggi. Ovviamente se ho un tasso d'occupazione del 50% per il prossimo sabato, ho meno possibilità di riempire un 50% che è tra sei mesi. Questo è banale e ovvio. Quindi lo strumento pick up noi abbiamo scelto di integrarlo all'interno di slope proprio perché crediamo che sia uno strumento di analisi, quindi lo step 1 di gestione del pricing dinamico, che è fondamentale. La seconda parte, una volta che ho analizzato come stanno andando le varie date, vado ad intervenire e vado a modificare i miei prezzi. E qui noi abbiamo scelto di permettere all'albergatore, al revenue manager, al receptionist o chi sia di crearsi una serie di modelli di prezzo. Quindi io mi preconfiguro 10, 15, 20, quanti voglio modelli di prezzo, come se fossero dei timbri, dove un timbro rappresenta il mio pricing nella sua versione più economica, poi mano a mano a salire fino a diventare la versione più costosa. Ed è qui che è interessante il pick up perché mi aiuta a capire anche qual è il pressing della domanda. Il pressing della domanda lo capisci in base alle prenotazioni che ottieni per quella data lì. Se vuoi incrociare ancora più dati possiamo andare a vedere anche magari le richieste di preventivo che otteniamo, i preventivi che abbiamo fuori. Quindi andando a incrociare tutti quanti questi dati in relazione a che prezzo ho poi applicato, posso capire se e come movimentare il mio prezzo per un certo giorno o per un range di giorni. Quindi gli strumenti sono diversi e quindi uno potrebbe dire dopo tutta quanta questa fatica mi affido ad un software, mi faccio un pricing automatico, legittimo. Oppure no, comprendo come si incastrano tutti quanti questi pezzi e sono convinto che io posso in maniera manuale con pochi clic andare ad applicare questi modelli di prezzo di cui parlavo prima sulle varie date andandoli di incrementare mano a mano che l'occupazione varia. Perché ho gli strumenti per farlo e io questo strumento pick up non ce l'ho, il pricing dinamico non riesco ad applicarlo perché non so facilmente come sono variate le varie date. Non ho facilmente l'accesso al dato. Al dato. Facciamo un ulteriore approfondimento. Immaginiamo di aprire il nostro pick up oggi, è venerdì e lo mettiamo come data ieri magari, quindi solamente un giorno e mezzo. Vediamo che per una certa data abbiamo ottenuto 30 room night in più, solamente per quella data, all'improvviso. Probabilmente si tratta di una conferma di una prenotazione di gruppo. Una prenotazione di gruppo ovviamente ha delle caratteristiche differenti rispetto a 30 prenotazioni di singoli, le azure o business che siano. Proprio perché la prenotazione di gruppo ha tendenzialmente dei prezzi convenzionati negoziati, delle condizioni di cancellazione che comunque portano via dei blocchi di prenotazione in caso di cancellazione. 30 singoli pesano diversamente, cubano diversamente rispetto ad un gruppo da 30. Certo. E in base a questa informazione che io devo riuscire a filtrare dalla nostra reportistica, dal nostro strumento di analisi appunto pick up, io vado poi a movimentare il prezzo in maniera accordingly, di conseguenza. E quindi magari nel caso di un gruppo, se mi trovo in quel momento in bar 3, non andrò a spostarmi a bar 8, che è vicino alla bar 10, che è il prezzo più caro che ho. Certo. Nel caso in cui ho una protezione di gruppo. Nel caso in cui ho 30 singoli, allora a quel punto spingo di più il prezzo. Proprio perché la mia pressione della domanda per quella data è molto più alta. Ulteriore precisazione, il pick up può essere anche uno strumento che ci fa da campanello d'allarme, tra virgolette, da sentinella, per capire se una data c'è qualche evento che a noi ci è sfuggito. Se vediamo che per il 3 di ottobre, per qualche motivo, arrivano tante richieste e prenotazioni, magari il 3 ottobre c'è qualcosa che succede a Roma. Certo. E noi non lo sapevamo, non ci eravamo accorti. Noi siamo a Roma, nell'esempio. Non so se si capisce. E quindi quello ci aiuta a capire. Cerchiamo un attimino quello che succede e di conseguenza andiamo ad adattare i nostri prezzi. Se non ci accorgiamo che tutte le protezioni che arrivano sono guarda caso per il 3, magari non andiamo a mettere un minimum stay, magari non andiamo ad aumentare i nostri prezzi, prezzi. E alla fine della fiera cosa facciamo? Lasciamo revenue sul tavolo. Lasciamo dei soldi sul tavolo. E questo è un peccato. Chiaro. Benissimo. Io non aggiungerei altro perché sei stato super chiaro te. Lascio però la parola ai nostri ascoltatori che, come sempre, possono scriverci a podcast.chiocciolasloop.it Ciao a tutti. Buon lavoro. Grazie a tutti.